Buongiorno, oggi faremo una demo un po' più complessa di quella della scorsa settimana. Useremo questa chitarra semiacustica Takamine, l'Arm Station Boss, un delay Banez e il sintetizzatore per chitarra Roland GR20. Quindi, immancabile, il piccolo Roland da 5 Watt che uso in casa e come batteria utilizzeremo questa vecchia Yamaha alla quale abbiamo collegato questi pedali che azioneremo appunto con i piedi. Sulla chitarra Takamine abbiamo montato questo pick-up esafonico collegato quindi a un sintetizzatore, al sintetizzatore Roland che ci offrirà la gamma di suoni differenziati che ascolteremo. Come base ritmica questa volta useremo solo un metronomo e come abbiamo detto i pedali della batteria elettronica che potrebbero suonare così. Per prima cosa inseriremo un basso con il sintetizzatore. Adesso inseriremo un'altra traccia con un bel coro di voci che serviranno come tappeto di sfondo per il pezzo. Adesso ci aggiungiamo anche un arpeggio di chitarra normale. Aggiungiamo anche dei campanellini. E poi, volendo esagerare, ancora per il tappeto di base ci mettiamo anche dei dio in un coro d'archi. Adesso che abbiamo messo insieme tutte le tracce e poi abbiamo messo insieme a un'altra traccia con un'altra traccia con un'altra traccia con un'altra traccia con un'altra traccia. Alla traccia con un'altra traccia con un'altra traccia. Alla traccia con un'altra traccia con un'altra traccia. Alla traccia con un'altra traccia. Alla traccia con un'altra traccia. Grazie.